Si conclude alla Fondazione Sant'Andrea di Clusone il progetto Storie da Collezione. Come si è svolto questo progetto? Innanzitutto questo è un progetto che definiamo sociale, nel senso che si tratta di un progetto pilota che ha visto la collaborazione di Story Factory e la Fondazione Credito Bergamasco. La Fondazione Credito Bergamasco ha in seno una collezione di opere d'arte che ha voluto esporre in un luogo particolare come la Casa di Riposo Fondazione Sant'Andrea appunto per dare la possibilità a queste opere di uscire dai canonici luoghi dove si trovano per incontrare i pensieri di altre persone ed è stato bellissimo rivolgerci ad una fascia sociale solitamente poco valorizzata perché è un po' alla fine di quello che è il percorso della vita di ciascuno di noi. Fondamentale è stata la valenza di queste opere d'arte per questo sfondo sociale nel senso che sono servite per poter produrre dei racconti, per poter suscitare dei ricordi e sono state una finestra per un tuffo nel passato. Solitamente l'anziano ricorda il passato e il futuro solitamente ha uno sguardo diverso rispetto a questa cosa. Questo progetto ha visto impegnati dei facilitatori che sono riusciti a dare degli input e a far parlare dei gruppi di lavoro attraverso dei laboratori che sono stati sostanzialmente narrativi quindi attraverso la visione di un'opera riuscire a suscitare un ricordo della propria vita, della vita di qualcuno, riportare in vita un'emozione. Per me, che sono stata una dei facilitatori impegnati nel progetto, è stato un brivido, lo definirei così, perché a volte non si pensa che le persone anziane abbiano così tante risorse nonostante abbiano dei limiti, dei limiti dovuti all'età, dovuti magari a diverse patologie, ma nonostante tutto la potenza dell'arte e della forma narrativa a cui si è dato questo progetto ha portato alla luce tante e tante belle storie che abbiamo potuto appunto raccogliere e collezionare all'interno di questo progetto e in questo libriccino che si chiama appunto Storie da collezione che raggruppa tutte le storie che sono venute alla luce e quindi ad oggi mi viene da dire che la collezione che è ritornata alla Fondazione Credito Bergamasco ha un valore aggiunto, cioè un'ulteriore collezione di storie umane che sono uscite all'interno di questo progetto. Grazie